Non basta sudare per ottenere il corpo che desideri. Vi presentiamo Extreme Power Belt, la combinazione perfetta che, oltre a far sudare, comprime, comprime, comprime per risultati eccezionali. Studi scientifici dimostrano che il sudore costante e la compressione progressiva portano a cambiamenti anatomici svalorditivi. Extreme Power Belt con le sue fasce duo-isometriche assottiglia la vita, appiattisce l'addome, corregge la postura, ridistribuisce la massa corporea e ti fa sudare solo dove necessario. Extreme Power Belt, comoda pratica per tutte le occasioni. Non si nota? È vero! Sì, si nota! È l'ideale per definire i miei addominali. Sono passata dalla 46 alla taglia 44 e ora voglio la 42. Chiama ora! Chiama per informazioni Extreme Power Belt e ricevi gratis Thermo Extreme, la fascia osmotica per sudare all'estremo. Doppio sudore, doppi risultati con la tua Thermo Extreme gratis. Extreme Power Belt, sudore e compressione per risultati estremi. Chiama subito!